Ok, di sicuro non ne sono rimasti molti. Abbiamo spazio per noi e l'accesso controllato. Concentratevi sulle porte, subito! D'accordo, certo. Facciamola finita, qualunque cosa sia. Devo ripulire questa merda sotto la condanna di quella mazza. No, non devi. Sta un po' zitto, ok? Ehi, ormai è finita. È troppo tardi. Io sono l'autore, tu sei l'uomo morto. Ed è così che sarà. Credi che io possa essere qualcun altro? Questo è quello che sono. Io vivo. Tu muori. La realtà è questa. I meschini compromessi a cui sono sceso per evitare il conflitto hanno sempre avuto lo scopo di salvare le vite del mio popolo. Ora mi rendo conto che salvavo le vostre. Non più. Basta! Arrendetevi, o lui è morto. Arrendetevi, o lui è morto. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Morgan, dobbiamo andare via. Non ce ne dobbiamo andare. Sono tutti morti.